Oggi parliamo di quali sono gli elementi che deve contenere un'entrata di breaking per essere considerato un'entrata di breaking. Questo non è propriamente un mio pensiero, non sono delle mie idee, non sono delle mie opinioni. Questo è quello che ho imparato, non tramite esperienze eccetera, ma ho imparato direttamente da un b-boy che si chiama Floor Phantom, dei Mighty Zulu Kings e dei Ready to Rock. È uno degli ultimi Bronx b-boys, nel senso che hanno proprio quel Bronx Styles della nuova generazione. Questo mi è stato comunicato, insomma è stato detto da Snap, che viene considerato insomma Floor Phantom, tra l'altro Snap è della sua stessa crew, dei Mighty Zulu Kings, oltre che dei Last Alive. Insomma Snap è un italiano, invece, beh penso che tutti lo conoscono, invece Floor Phantom che è un po' meno conosciuto, soprattutto in Italia, in generale nella scena internazionale non è proprio conosciutissimo, perché non è uno di quelli che si mette sotto i riflettori a fare mosse tanto grandi, parleremo delle big moves, insomma parleremo anche delle mosse grandi, magari in un altro video. Allora, questo b-boy Phantom non l'ho imparato direttamente da lui, ovvero l'ho prima di tutto visto in un suo workshop, tra l'altro in forma integrale su YouTube, ok? Non ho mai avuto il piacere di studiare direttamente con lui a un suo workshop, non l'ho mai visto di persona, cioè nonostante grazie a internet, insomma l'era dell'online, dell'internet è sicuramente un grandissimo aiuto in questo senso, cioè adesso possiamo studiare direttamente dal nostro laptop, anche dal nostro cellulare. Il video lo potete, penso, ancora trovare integrale su YouTube, non è tagliato, la qualità non è alta, bisogna stare attenti, non è sottotitolato e lui parla ovviamente abbastanza bene in modo da farsi capire perché il workshop è stato tenuto in Russia, tra l'altro, però sicuramente non si tratta di un linguaggio tantissimo, tanto semplice. Viene fatto molto ma lui parla anche parecchio, il che è assolutamente positivo, perché secondo me, poi questa invece è una mia opinione, oggigiorno tra virgolette si tende a preferire un po' di più il fare a livello fisico ed atletico acrobatico, che è importantissimo certo il breaking, è sicuramente un ballo molto acrobatico o comunque chiamiamolo, definiamolo come vogliamo. In ogni caso l'importante è anche preservare la tradizione, la cultura, non in termini di restiamo appiccicati a quello, ma sicuramente è importantissimo tenerne conto e appunto partire come base da quello. Quindi quali sono questi elementi? Gli elementi sono quelli che tutti quanti noi conosciamo. La formula quindi è top rock, drop, go down, footwork, eventually dice lui, eventually, power, quindi spin, quindi dinamica e freeze, ok? Inteso anche come freeze finale. Questi cinque elementi qua, molto 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 semplici, sono cinque elementi semplicissimi. Qual è il problema tra virgolette? Il problema è che viene trascurato veramente tanto, il problema è che l'ordine spesso è invertito ma non in base a, ok, so qual è la base e quindi mi adatto oppure l'ha adatto in base al groove, in base alla musica, in base a tutto quanto. No, viene spessissimo semplicemente ignorato, non per dare degli ignoranti alle persone perché non mi sento di poterlo dire degli altri, non mi sento di potermi elevare a tale ruolo, sinceramente, ma sicuramente posso dirlo al me stesso di dieci anni fa, per esempio, ma anche solo di cinque anni fa, che semplicemente non aveva ben consapevolezza di questa cosa, quindi nel mio caso specifico cosa succedeva? Io entravo, alle volte entravo addirittura direttamente sulle mani, vabbè ma si parla di tanti anni fa, non per giustificare, ripeto, era proprio ignoranza, ok? Semplicemente c'era, c'è tutto un discorso da fare a parte che non affronterò. Oppure, anche più banalmente, entravo nel battle, insomma, sul dance floor e semplicemente non tenevo conto di questi elementi perché non li conoscevo, o meglio, non conoscevo la formula, ok? Quindi questa successione di elementi che devono integrarsi tra di loro in questa maniera qua. Da qui poi parto e li posso interscambiare, cioè se io entro con un blow up, non è che me lo vieta nessuno, certamente poi devo sapere che comunque il resto degli elementi devono essere fatti. Questo ovviamente, cosa succede? Non è che io entro e penso a questi elementi. Qui sta la magia, la potenza della conoscenza, dello studio e dell'allenamento. Quindi nel momento in cui io mi alleno, mi alleno in questo senso qua, quindi mi alleno a fare delle entrate che rispettino questo criterio di formula qua, in modo da avere una congruenza, insomma, in modo da essere, si dice on point, ok? In modo da essere, tra virgolette, giusti, cioè nel contesto giusto, essere la persona giusta nel momento giusto, nel contesto giusto di riferimento di questa appunto cultura che è l'hip hop. Nel momento in cui io entro e non rispetto nulla, parto a cannone con delle power move, io non ho nulla assolutamente in contrario all'essere un power head, come non ho nulla in contrario al fatto che io al tempo magari ero poco, non avevo molta conoscenza, insomma, ero un po' ignorante, entravo e semplicemente lanciavo le skills varie, insomma. Il tema delle skills lo affronterò in un altro video, tra l'altro. Questo però fa di te, non fa di te un B-boy migliore, questo fa di te un B-boy incompleto, il che secondo me nel 2019 è assolutamente una cosa da non sottovalutare più. Non tanto per un discorso di competitività e basta, ma per un discorso anche di competenza, che è importantissimo tenere, soprattutto appunto per le nuove generazioni. Perché? Perché comunque il contesto di riferimento di base, che erano i party, le gem, non c'è sostanzialmente più. Ma appunto nel momento in cui io rispetto comunque questa formula, posso considerare la mia entrata un'entrata di breaking. E questo, ripeto, non è una mia opinione. Questo è quello che è stato tramandato a Floor Phantom, perché io l'ho imparato da lui, ma non è che lui l'ha imparato da se stesso. E lui l'ha imparato, non saprei creditare da chi di preciso. So che nel suo libro, tra l'altro ce l'ho qua, The Manuscript, si legge al contrario, ovviamente tutto in inglese, è un libro che, è un libro corto e parla del The Complete Guide to Physical Training, ok? Quindi parla di allenamento fisico del breakdancing, dice, scrive lui. Non è una cosa di teoria, però io qui in questo libro l'ho ripassato questo concetto, quindi a un certo punto lui parla di questa formula qua. Non voglio fare, appunto non voglio copiare le sue parole, perché comunque secondo me è giusto anche che voi compriate questo libro, costa poco, ve lo fate mandare in formato pdf, poi appunto sta a voi stamparvelo, studiarvelo, leggerlo. Non posso parlare per quel che riguarda l'aspetto fisico, perché non sono un insegnante né di educazione fisica, non sono un laureato di scienze motore, non ho nemmeno il diploma di personal trainer, quindi che è il gradino secondo me da cui bisognerebbe partire per poter parlare di allenamento fisico, oppure di preparatore atletico, eccetera. Io ho semplicemente un certificato in biomeccanica che non significa che posso preparare le persone e ho fatto un patentino appunto per insegnare la breakdance, il breaking, ma è stato un corso che è durato, sì, è durato quattro giorni, insomma non è stato proprio un corso leggero, ma nonostante quel corso non mi sento in grado di poter confutare oppure avallare le sue teorie, le cose che ha scritto, anche perché io non so lui che studia ha fatto insomma in merito, quindi non so se lui è un preparatore atletico, eccetera, o se solo in base alla sua esperienza personale. Sicuramente personalmente, anche alla luce di tutto il lavoro che ho fatto con il mio personal trainer, mi sembra un libricino valido, però ne parleranno poi gli esperti in materia se vorranno fare una recensione di questo libro, io adesso mi stavo limitando semplicemente a riconfermare quello che avevo già appunto ascoltato da un suo video, cioè quindi la formula di base. Questa formula di base poi può essere ovviamente interpretata e può essere anche scomposta e ricomposta, ma io non credo che possa essere accorciata, ovvero non credo che possa esserci un'entrata senza toprock, non credo che possa esserci un'entrata senza drop, non credo che possa esserci un'entrata senza i footwork, non penso che ci possa essere un'entrata ovviamente senza le power, quindi la dinamicità, il power non è inteso come per forza 8 giri di half-flare a un braccio, stiamo parlando di dinamica di base, lo spin, quindi anche un airplane, un giro sulle ginocchia, un backspin, original backspin, un giro sul sedere o un giro sulla testa, insomma la rotazione deve esserci secondo me, come dicevo in un altro video la forma del braking è quella circolare, quindi stare in cerchio, ciò non significa che devo girare tutto il tempo come se fosse una trottola, per forza, ci sono i cambi di ritmo, i cambi di tempo, i cambi di fluidità, lavorare un pochino di più su certi livelli piuttosto che su certi altri, lavorare sugli stop, quindi appunto non può mancare nemmeno il freeze, e attenzione il freeze non è il power freeze, il freeze è il freeze, ok? Come invece ho visto in un workshop sempre, tra l'altro svolto in Russia se non sbaglio, comunque in Ucraina, insomma in quei posti là dove di solito le persone studiano e studiano da chi, da chi sostanzialmente ha già studiato e ne sa di più, ho studiato appunto tramite questo workshop online, sempre, un filmato di questo workshop integrale di Fleer Rock tra l'altro, e lui giustamente, non ci voleva un genio arrivarci? Sì è vero, però giustamente lui lo fa vedere proprio chiaramente, lui si mette nel cerchio che dice, a freeze is a freeze, e si mette in diverse pose e dice, this is a freeze, si mette così, ok? Oppure si mette in altre posizioni che sono gli atteggiamenti classici diciamo di quello che è il b-boy flavor, se possiamo definirlo così, e poi mi smentirà chi vorrà smentirmi, e non sono assolutamente felice di avere un dibattito e di parlare in questa maniera, soprattutto per avere anche un confronto diretto nei commenti e non solo nei messaggi privati, perché continuano ad arrivare messaggi privati, e sono veramente fiero, cioè fiero, sono molto felice che arrivino i messaggi privati, però sarei più felice se arrivassero dei commenti pubblici, in modo da alimentare un dibattito, perché ripeto, tante persone magari non guardano il video, ma leggono i commenti, tanto quanto poi tante persone magari non leggono i commenti e guardano i video, poi infatti sarà mio dovere, tra virgolette, parlare, quindi leggere i commenti in altri video, e lo farò con moltissimo piacere. Comunque, tornando a questo, i freeze sono diversi tipi di freeze, quindi io magari i power freeze, per esempio gli hollow back, quelli in movimento, chiamiamoli freeze in movimento, fa un po' ridere, però i tricks, ok? Sono delle cose sicuramente interessanti, ma che devono essere considerate più forse come power. Il freeze è una cosa più che riguarda il tuo stile, ok? Quindi stai comunicando anche qualcosa al tuo sfidante, o appunto alle persone intorno al cerchio, oppure ai tuoi spettatori nel momento in cui tu stai facendo uno spettacolo, quindi gli stai comunicando determinate cose. Sulla terminologia più o meno esatta di quello che significano le diverse pose, diversi atteggiamenti, diversi gesti, la terminologia appunto accurata, eccetera. Vi rimando a un prossimo video che farò probabilmente insieme ad Alberto nell'immediato futuro, che è Fit for Funk, Alberto Fit for Funk, che sicuramente è uno dei miei conoscenti diretti, posso chiamarlo anche un amico, con cui ho più rapporto, con cui posso fare un discorso del genere nell'immediato futuro. Ulteriori esponenti insomma che abbiano una cultura proprio tecnica specifica degli elementi, degli argomenti e soprattutto della terminologia e sapere anche dove collocarla, saranno sicuramente contattati nel momento in cui avrò anch'io una conoscenza più diretta di queste persone qua. In ogni caso, nel momento in cui noi facciamo questi elementi qui, ritornando alla formula, possiamo definire un'entrata di breaking proprio. Nel momento in cui io entro e faccio soltanto dei tricks, un po' difficile. Questa è la formula base, ciò non significa che siano gli unici elementi da considerare. C'è da considerare l'atteggiamento, c'è da considerare lo stile, c'è da considerare il flavor. Viene fatta una distinzione fra stile e flavor, un argomento che approfondiremo più avanti e non sarò io ad approfondirlo, anche perché guardando sull'Urban Dictionary online, flavor viene proprio associato al termine stile, flavor is style per loro, nell'Urban Dictionary, sto parlando dell'Urban Dictionary. Poi anche, non mi ricordo in quale intervista di Po One, lui diceva che flavor is the way you react to sound, come ti comporti, come ti porti, dicono appunto in inglese, in pubblico ma anche dietro alle porte chiuse, cioè quindi anche quando sei da solo, quello è più l'espressione del tuo flavor, che vuol dire appunto flavor, il gusto, ok? Quindi è un pochino più articolato rispetto all'argomento dello stile. Il groove, un altro elemento importantissimo. L'originalità, insomma ci sono dei termini, degli aspetti molto anche astratti, tra virgolette, ma che poi si riflettono in maniera concreta evidentemente, cioè si vede nell'evidenza proprio della concretezza del tuo modo di ballare. In ogni caso, adesso io vorrei chiudere questo video, ricordiamoci che bisogna studiare ragazzi, bisogna informarsi, bisogna assolutamente espandere la propria mente. Un altro commento molto interessante che mi è arrivato proprio oggi è stato di Ivan Sorgente, ne parlerò in un altro video, comunque dovete sempre controllare la fonte, nel senso voi vedete i miei video per esempio e non date per scontato quello che dico io, ma fate un doppio check, un double check, ok? Cercate di digare un pochino su chi sono i personaggi che vi danno le informazioni e poi scegliete se fare un percorso o meno con loro. Niente, detto questo ci sentiamo al prossimo video. Ciao!